Siamo nel laboratorio tecnologico del centro ricerche del gruppo Geosec presso la sede italiana. Oggi voglio mostrarvi e presentarvi uno strumento unico nel suo genere, la nostra vasca di sperimentazione. Questa vasca sperimentale ci permette di ricostruire in laboratorio le condizioni di sito e attraverso una sensoristica e strumentazioni di carattere geofisico, geotecnico e termoidraulico studiare il comportamento dei terreni prima, durante e dopo le iniezioni consolidanti. Questo strumento è per il gruppo Geosec di fondamentale importanza per migliorare la qualità dei suoi servizi e delle sue metodologie di intervento. Oggi siamo nella fase di svuotamento della nostra vasca sperimentale con l'obiettivo di meglio osservare e analizzare quella che è l'evoluzione delle iniezioni all'interno di un mezzo granulare incoerente, in particolare queste sabbie. Le iniezioni sono state eseguite su un multilivello nella verticale e possiamo appunto osservare i volumi prodotti dalle iniezioni consolidanti a creare dei bulbi sovrapposti che hanno una consistenza molto dura e che hanno creato una continuità lungo tutta la verticale di iniezione. Oggi siamo davanti a quello che di solito non vediamo a seguito di interventi di consolidamento, cioè quello che succede nel terreno dopo le iniezioni consolidanti. Possiamo osservare il volume quasi continuo dei bulbi iniettati attraverso la resina consolidante quasi a formare delle colonne verticali. Questo è quello che succede nei trattamenti consolidanti con resine, in particolar modo per la mitigazione del rischio di liquefazione dei terreni. Questo fenomeno, quello della liquefazione, porta spesso in determinate condizioni sismiche in presenza di falda e con terreni sabbiosi a degli spuotimenti di terreno con fuoriuscite di acqua e sabbia e acqua e terreno anche in superficie. Attraverso questi interventi consolidanti con resine poliretaniche possiamo contrastare questo fenomeno attraverso delle iniezioni mirate colonnari, come quella che vediamo, che porta diverse migliorie e diversi fattori di miglioramento sul trattamento dei terreni. Prima di tutto parliamo di un materiale, questa resina consolidante, che meglio si presta dei classici cementi o delle miscele a base di cemento, perché nel giro di pochi minuti la sua attività conclude il consolidamento rispetto ai 28 giorni magari di un normale cemento. Inoltre è un materiale molto leggero, quindi un peso specifico ridotto, è un materiale che non appesantisce il terreno ed è un materiale altamente visibile attraverso anche indagini di tomografia di resistività elettrica 3D, perché contrasta con quelli che sono poi i requisiti della resistività o della conduttività dei terreni. Questo materiale va ad entrarsi nella matrice sabbiosa creando un composto molto duro, molto denso, possiamo vedere anche quanto possa essere resistente a seguito dell'indurimento ed è un altro materiale ecocompatibile attraverso test condotti su queste resine consolidanti e quindi sicuro per l'ambiente e sicuro per l'uomo.